SCARICALA SUBITO Il passato di Shannon Molto bene, continuate così! Benissimo, Jenna! Vi ricordo che le telecamere sono spente e nessuno vi vedrà preparare per lo speciale di domani. Dovrete parlare della vostra infanzia e di come avete scoperto tutti i vostri talenti. La lezione è finita! A domani, ragazze! A domani, Nicoletta! Ricordate il nostro primo show quando eravamo bambine? E quando per paura di un'inondazione siamo entrate tutte nella vasca da bagno? Ora andiamo a riposarci. Domani sarà un giorno importante. Io non ho ricordi con nessuna di loro. Cosa dirò? A me piaceva raccontare storie a tutti. Ci vediamo domani! La porta non si apre! Siamo chiuse dentro, non c'è abbastanza ossigeno per tutte! Non preoccuparti, chiameremo... Oh no, i telefoni sono nell'armadio e le telecamere sono spente! Vi prego, fateci uscire di qui! Fammi provare. Ok, siamo proprio chiuse dentro. È come in un film dell'orrore! Ci toccherà dormire qui stanotte. Ma date retta a me e sarà meglio non agitarsi, altrimenti finiremo per litigare. Che cosa? Ma non ho con me il mio cuscino! Sta calma, Jenna, troveremo una soluzione. Questa sarà una lunga notte. Sapete, da bambina non avevo mai pensato di suonare la chitarra. Poi, un giorno, Daisy me ne prestò una. E appena sfiorai le corde, capì che questa era la mia strada. Che bello! Raccontalo domani al gala speciale dei ricordi di infanzia. E tu, Dreamy, quando hai iniziato con i pattini? Ricordo che ero piccolissima e ci fu una grande gelata. Il lago diventò una pista da pattinaggio. Io cadevo sempre rotolando sul ghiaccio come un barile. E tu, invece, Shannon, come hai iniziato a ballare? Beh, sapete, da bambina mi piaceva tanto ballare con i miei amici. Ero molto popolare, vivevo a Swan Lake e... Ma tu non vivevi da queste parti? Già, non ti abbiamo mai vista a Swan Lake. Se eri tanto popolare, perché non ti conoscevamo? Non vi ho raccontato molto sul mio passato. Perché? Qualcosa non va? No, no, niente. Ma preferisco non ricordare certe cose. E perché non vorresti ricordarle? Ecco, è solo che... Ma perché nascondi la mano? Che cos'ha che non va? Sì, faccela vedere. Cosa hai lì dietro? Ci nascondi qualcosa? No, non lo farei mai. Mostraci la mano. Shannon! Shadow! No! Ciao! 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 Non vivevo con voi quando eravamo piccole, neanche ve lo ricordate. Non venivate mai a trovarmi. Passavate oltre senza vedermi. Ciao, bimbe! Cercavo di scendere per raggiungervi, ma senza riuscirci. Era troppo difficile. Sono qui! Sono qui! Avevate il potere di volare, ma non siete mai venute da me. Vi ho scritto delle lettere, ma non avete mai risposto. Ho capito che non volevate essere mie amiche e che sarei rimasta sola per sempre. Cominciai a svanire, diventai un'ombra, diventai Shadow. E poi smisi di usare i miei poteri per fare del bene. E cercai... Di portare energia negativa ovunque. E ora me ne pento. Me ne pento amaramente. Non so come abbiamo fatto a non vederti. Giocavamo con tutti i bambini. Ed eravamo tutti amici. Mi dispiace, Shannon. Se ti avessimo conosciuta saremmo state amiche. Best friends forever. Se mi sono comportata male è stato solo perché desideravo essere vostra amica e non restare sola. Tranquilla, non sarai mai più sola. Ti aiuteremo a trovare un bel ricordo della tua infanzia e domani saremo tutte alla finale per sostenerti. E ora è il turno di Shannon. Buonasera a tutti. Quando ero bambina vivevo su una montagna molto molto alta e camminavo ogni giorno su rocce molto molto affilate. Ero sempre in punta di piedi. Notizia. Shannon è Shadow. Cosa? È sempre vissuto vicino a noi. Era sola, pensava che non la volessimo. Ha detto che non diffonderà più energia negativa. E voi le credevi dopo quello che ci ha fatto? In effetti hai ragione. Di sicuro trama qualcosa. Diamole una chance. E grazie alle mie nuove amiche ho scoperto una parte di Mary ma sta finora nascosta. Shannon, sei stata grande? Io non mi fido. Nemmeno io. Daisy, buona fortuna. ma non mi fai! Nooo! Nooo! Hai salvato Daisy! Allora sei cambiata davvero! Adesso sei una di noi, una BFF! Best friends forever! Best friends forever! Best friends forever! Un'esibizione straordinaria! Ragazze, la mia esibizione di oggi sarà spettacolare! Ho imparato a piangere per finta, guardate! Ci divertiremo un mondo! A proposito, dov'è Miss Collect? Qui! Ha un aspetto terribile! Dovrebbe riposare un po'! Allora, cancelliamo il gala? O Nicoletta condurrà al suo posto? Nicoletta si sente anche peggio di me! Cancellare il gala! Mai! The show was gone! Ora vado! Solo un momento! Il gala inizierà tra due minuti! Che emozione! Miss Collect non può salire sul palco in queste condizioni! Ognuna di noi presenterà! Cosa? Come? Chi? Io potrei! Jenna sarebbe perfetta! È lei l'attrice migliore! Cosa? Io? Non ha fatto le prove! Tuttavia, sei un'attrice! Sì, sì! Venga con me, Miss Collect! Le porto un tè caldo e dei cupcake! Deve riposare! Ha ragione! Io non ho mai provato! Mi renderò ridicola e il pubblico riderà di me! Tranquilla, Jenna! Andrai alla grande! Sei molto coraggiosa a voler presentare il gala! Qualcosa potrebbe andare storto e la colpa ricadrebbe su di te! Presentare il numero sbagliato! Un vuoto di memoria! Due artisti che si accavallano! Andiamo, Jenna! Puoi farcela! Ma... devo fare qualche prova! Non preoccuparti! Andrai alla grande! Vi aspettavate Miss Collect, giusto? Beh, spero di non deludervi perché oggi sarò io a presentare! Sì! 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 Presenta Jenna! Forte! C'è un sacco di gente, non è vero? Io sarei molto nervosa! Wow, quanti spettatori! E ci sono anche molte persone che ci guardano da casa! Sta parlando di noi! Oh, sono così nervosa! Speriamo che vada bene! Il primo numero di oggi è... La dolcissima pasticcera Connie! Giusto! Sono la prima ad esibirmi! Arriva! Beh, direi non male come inizio! La dolcissima pasticcera Connie! Connie, ti prego, dove sei finita? Sta filando tutto liscio, ma mai come il prossimo artista sulle sue rotelle! Shaq! Shaq! Fermo lì! È il mio turno! Jenna ha detto rotelle! È il mio turno! Smettetela e andate! In skate o sui pattini? Come vi pare? Il pubblico vi aspetta! Ha! Fa meglio di così se ci riesci! Se ci riesco, ora vedrai! Che c'è? Non te l'aspettavi, eh? Bene! È tutto quello che sai fare, guarda! Beh, guarda questo! Una passeggiata! Mi gira la testa! Tanti saluti all'attrice! Io saprei fare di meglio! Fantastico! Proprio come la più affascinante e bella modella in tutto l'universo! Lady! Oggi indossa una splendida borsetta disegnata dalla talentuosa Elodie! Ci sono, ci sono! Finalmente ce l'ho fatta! La mia borsa! La mia borsa! La mia borsa! Hai visto? Che caos! Che disastro! Se ne vanno tutti! Che faccio? Che faccio? Che faccio? È il momento della pubblicità! Torniamo subito! Non potrebbe andare peggio! Solo un miracolo può salvare il gala! No, nemmeno un miracolo! Oh, che disastro! Non voglio salire su un palco mai più! Sarò costretta a sostituirti per salvare il gala e farò sicuramente meglio! Aspettate, ho un'idea! Sky, che cosa vuoi fare? Lo vedrai! Siamo tornati a Big Dreams con le BFF! Jenna! Jenna! Annuncia il mio numero! Tanto peggio di così non può andare! Pronti per l'ultima esibizione di oggi? Io non… Sky, il principe di… Che sta facendo? Non voglio guardare! Non voglio guardare! Oh, io non posso guardare! Sono finita! Ehi, cos'è quello? Non posso crederci! Oh? Nila? Nila! Quello è un cavallo alato o sono allucinazioni? Anch'io lo vedo! Probabilmente ho la febbre! Oh! Wow! 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 Oh! Sì! Sì! Wow! Oh! Oh! Sì! E con questa incredibile e spettacolare esibizione di Sky il nostro arrivederci al prossimo gala! Il gala è stato un successo! Il gala è stato un successo! Mila, non ci credo, sei proprio tu, sei diventata così grande! Non lo so, l'ho incontrata nei boschi e abbiamo legato subito! Ben fatto, Sky! Ma non sapevamo del tuo incredibile talento! Mi dispiace di non avervelo detto, ma l'ho portata a palazzo per proteggerla! Non c'è problema, l'importante è che sia tornata per salvarmi! Rim, ti ricordi di Mila? Credo che andrete molto d'accordo! Ciao! Ciao! Sì Un San Valentino disastroso! Felice San Valentino! Oggi vorrei che tutti voi vi lasciaste trasportare dal vostro cuore, da ciò che vi piace e da ciò che vi ispira. Evviva l'amore! Il mio regalo di San Valentino sarà per Nila! Non avrei scoperto il mio talento senza di lei! Miei cari follower, ho preparato dei cupcake per le mie amiche perché loro ci sono sempre per me e questo è amore! Oh, adoriamo il giorno di San Valentino! Tieni, Phoebe! Questo regalo è per te! Sono le foto di quando siamo state in campeggio! Ricordi? Best friends forever! Io dedico questa giornata a me stessa perché amare se stessi è molto importante! Sai una cosa, Narvi? È il grande giorno! Finalmente ho trovato il coraggio per dare il mio biglietto a Daisy! Oh wow! Le darò davvero quel biglietto! Puoi farcela, Shack! Non ce la faccio! Puoi farlo tu per me! Oh, dammi qua! Cos'è questo? Un cuore! Oh, sono sicuro che sia caduto dall'assù! Oh, ecco qui! Fatto! Oh, è l'armadietto di Lady! Cos'è questo? È un biglietto per San Valentino! Tu mi piaci tanto! Se anche io ti piaccio, vieni allo skate park oggi pomeriggio! Oh! È firmato da Shack! Cosa? È di Shack! Non credo che ci andrò! Nel biglietto mi chiede di andare se lui mi piace e a me lui non piace! Ma devi andarci! Ma non mi piace in quel modo! Ti consigliamo di andare, altrimenti gli spezzerai il cuore e soffrirà molto! Vuoi che Shack soffra? Eh, no, ma... Basterà fare in modo che l'appuntamento non vada bene! Così non gli piacerei più e nessuno soffrirà! Ok! Andrò all'appuntamento e fare in modo che vada tutto storto! Questo San Valentino si prospetta disastroso, vero? Daisy verrà o no? Daisy verrà... Lady? Oh no! Ciao! Sì, sono io! Allora che facciamo? Non ho tutto il giorno! Ma 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 ma... Aspetta un momento! È già andato via! Ha funzionato! Che brava! Sono un'attrice migliore di Jenna! Sss! Lady! Lady! Siamo noi! Ragazze, voi che ci fate qui? Tieni, mettiti l'auricolare! Ti aiuteremo se servirà! Crystal! Ciao, Sac! Come va? Lady ha ricevuto il mio biglietto di San Valentino, ma è stato un errore! Era per Daisy! Ora vado e le dico che lei non mi piace in quel modo! Cosa? No, 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 no! Se tu le piaci, le spezzerai il cuore! Devi fare in modo che l'appuntamento vada male! Cosa? Hai capito bene! Fa che vada tutto storto! D'accordo, ci provo! Ma tieni il telefono vicino! Ragazze, non credo che sia necessario! Se n'è già andato! Sono qui, Lady! Ricorda, fai in modo che l'appuntamento non vada bene! Come butta, bello! Come butta? Che ne dici se... Ehi, perché non andiamo a vedere un programma di moda in tv? Non mi piacciono i programmi di moda! Beh, a me sì, quindi andiamo! Ora guardiamo un film dell'orrore! Che cosa? Non mi piacciono quei film! Beh, a me sì! Oh, Lady ha bisogno d'aiuto! Dobbiamo fare qualcosa! È il momento perfetto per uno scherzo! Stai bene? Scusa, ti ho spaventato! No, io non mi spavento mai! Sei coperta di piume! Somiglia a una gallina! Io adoro coprirmi di piume! Ehi, Lady! Preparagli un frullato! Ma io non so fare i frullati! Hanno un sapore orribile! Appunto! Ti va un bel frullato? Ehm, sul serio? Ma, Lady, tu sai preparare i frullati? Ma certo! Preparo frullati fantastici! Con broccoli, mostarda e maionesi! Lo sai, anch'io preparerò un frullato per te! Userò alghi, fagioli e ketchup! Il tuo frullato è pronto! Anche il tuo è pronto! È delizioso! Ricorda, Lady! Shaq odia ballare! Ehm, vuoi ballare? O tu odi ballare? Io preferisco cantare! A te va di cantare? Oppure sei stanca? Io stanca? No, io odio dormire! La 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 la! La la la! Oh, beh, se questo non rovinerà l'appuntamento, mi arrendo! Shaq! Devi continuare a cantare! Ah? Un momento! A te piace Daisy? No, beh, sì, il biglietto era per lei, ma tu l'hai ricevuto per sbaglio e, beh, io non sapevo com'è! Allora non ti piaccio! Fantastico! Non preoccuparti, ovviamente anche tu non mi piaci, ma sei molto cool! Ti aiuto io per il tuo San Valentino! Oh, ok! Daisy, potresti farmi un favore? Potresti insegnare a Shaq a cantare? Lo sai, è un vero disastro! Ah, certo! Scusaci, ti abbiamo dato un consiglio terribile! Non fa niente! Dopotutto, è stato un appuntamento divertente! Ciao, Shaq! Io... Per prima cosa dobbiamo provare a intonare le scale! La 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 la! La 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 la! Oh, sembra che avremo parecchio lavoro da fare! Allora cominciamo con una singola nota! Così! Ah! Tocca a te! Ah! Oh, che dolcissimo San Valentino! La regina del gossip ha spifferato il mio segreto! E per oggi è tutto! Ci vediamo domani, qui a Big Dreams! Beh, per oggi abbiamo finito! Continueremo domani! Per fortuna questa era l'ultima lezione! Con le telecamere accese non smetto di mangiarmi le unghie! Beh, prima di salire sul palco io comincio a sudare tantissimo! E ho sempre paura che mi scivolino le dita sulle corde della chitarra! È perché siamo riprese continuamente! Ogni volta che ci penso io... 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 Balbetto! Non si può recitare tutto il giorno! Sì, è vero! Certe notti sono così nervosa che non riesco ad addormentarmi! E sapete cosa faccio? Non ditelo a nessuno! Ma a volte uso il ciuccio di quando ero piccola per rilassarmi! Così riesco a dormire! Il ciuccio, eh? Mi è venuta un'idea! E... 8 Caricato! Che succede? Cosa non va? Ho un brufolo! Sono spettinata! Peggio! Guardate il sito di Big Dreams! Cosa? La regina del gossip ha scritto che io uso il ciuccio! Accidenti! Guarda la foto di Miss Collect! Tutti stanno ridendo di me! E questo è solo l'inizio! Dobbiamo scoprire chi ha rivelato il tuo segreto! Quando ne abbiamo parlato eravamo solo noi! Oh, vorrei sparire! Abbandonerò la competizione! Non arrabbiarti! È solo un pettegolezzo! Domani nessuno se ne ricorderà più! E intanto oggi c'è uno spettacolo e non reciterò! Non dire sciocchietze! Verresti espulsa da Big Dreams! Forza, Connie! Devi entrare in classe! Ok, ma... Nascondetemi! Attente! Telecamera! Mescolare tre volte verso sinistra e poi... Quattro volte verso destra! E il gioco è fatto! No, non è vero! Non lo uso quasi mai! Per la tensione! Lo so che è soltanto per... No! Cos'è quello? Nooo! Connie, ti senti bene? Qualcosa non va! Ssh! Arrivano gli altri! Connie, hai un minuto? Ho bisogno di parlare con te! So come ti senti! Una volta qualcuno ha rivelato un mio segreto a tutta la scuola! Ma sai cosa ho imparato? Che non bisogna avere paura di essere diversi! Perché questo ci rende unici! Puoi farcela, Connie! Il modo migliore per reagire è lasciare tutti senza parole con la tua performance di stasera! Sì, d'accordo, ci proverò! La regina del gossip ci ha colpite prima con la storia di Rima e ora con questo! Chi può essere? Non lo so! C'eravamo solo noi nei camerini! Inoltre, non capisco chi potrebbe voler ferire Connie! Lei è così dolce! Oh, ma cos'hanno da ridere tanto? Non capisco! Divertente la foto di Miss Collette! Hmm, è molto sospetto! Stella, posso parlarti solo un momento? Io vado in classe e ci vediamo dopo! Perché stavate ridendo? Non avete visto la foto di Miss Collette? Anche voi! Non me l'aspettavo davvero! Connie, Connie, calmati! Vedi, tutti abbiamo dei segreti e non c'è niente di male! Sì, voi avete dei segreti, ma il mio lo conoscono tutti! E forse proprio una di voi è la regina del gossip! Aspetta, Connie! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per aiutarla! Ho avuto un'idea! Stasera la aiuteremo a superare le sue paure, ma ci vorrà coraggio! Siete con me? Certo! Noi siamo le best friends forever! E adesso che cosa convivano? Comincia, comincia! Wow, gran bel pezzo, Narvi! E ora la nostra prossima artista, la migliore chitarrista di Big Dreams! Stella! Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Connie, perché essere diversi ci rende speciali! E tutti abbiamo dei segreti! Io, per esempio, sudo moltissimo prima di salire sul palco! Ecco perché mi tengo sempre un fazzoletto in tasca! Ben fatto, Stella! Ora tocca a noi! Sapete qual è il mio segreto? Io mi mangio le unghie! E che male c'è! Quando mi accorgo che le telecamere sono su di me, io balbetto! Quando mi piace un ragazzo, arrossisco così e mi succede sempre con... Daisy, ora puoi smettere! Prima di tutto, vorrei ringraziare le mie amiche per avermi dimostrato che non bisogna vergognarsi dei propri segreti! Io uso il ciuccio e allora? Va bene così! Sì, anch'io a volte uso il ciuccio! Io bevo da un biberon, mi rilassa! E io metto il bavaglino! Il bavaglino? Sì, urrà per il ciuccio! Una persona mi ha detto che le differenze ci rendono unici e io sono unica perché uso il ciuccio! Lo faccio perché mi fa sentire bene, al sicuro e mi calma! Ma come quando ero piccola! Ma che forcante! Connie, 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 Connie! Grazie a tutti! Sapete, cari follower, l'ingrediente migliore è essere se stessi! Sì! Sei stata fantastica! No, voi siete fantastiche! Grazie! Ti adorano tutti! Il tuo video è virale! Un sacco di celebrità si fanno fotografare con un ciuccio! La mia amica è una star! Senti! Non sapremo mai chi sia la regina del gossip! Che importa? Ciò che sappiamo è che siamo le best friends forever! Per ora l'avete scampata, BFF! Ma solo per ora! Ma solo per ora! Wow, sono un unicorno! Ti piace? È la mia canzone per l'esibizione di oggi. Grazie, Rim. A essere sincera, sono triste perché sono tutti impegnati e nessuno ha tempo di ascoltare la mia musica. Sì, è così. Mi sento un po' sola. A volte vorrei essere come te, niente discussioni con gli amici o altri problemi da umani. Ah, in che senso si sente sola? A me non l'ha fatta sentire la canzone. Che vuol dire? Che non siamo amiche? Beh, se proprio Stella vuole essere come Rim, senza problemi da umani. Perfetto! Allora l'accontento. Oh sì, sarà davvero uno spasso. Mi sono addormentata mentre suonavo la chitarra. Dov'è finita? Dov'è la mia chitarra? Perché ho gli zaccoli? Oh no, un unicorno! Sono un unicorno! Sono un ring! Oh no, e adesso cosa faccio? Rim? Io? Rim, un unicorno! Stella? Rim, stella! Stella, io suono! No, no, Rim! Aspetta, aspetta! È sempre più divertente! Ehi, artista! Sei pronta per stasera? Ma che succede a Stella? Credo sia nervosa per l'esibizione. Dovremmo aiutarla a rilassarsi. Stella, credo che ti serva un po' di relax. Vieni, ti insegniamo un paio di trucchetti che ti aiuteranno di sicuro. Ah, ehi, ma cosa stai facendo? Stella si comporta in modo strano, vero? Devo dirlo alle BFF. Devi essere molto affamato oggi, ma non puoi avvicinarti così all'Academy. Torniamo alla stalla. No, Rim, qui non puoi proprio entrare. Devi tornare nella stalla. Vieni, resta qui e mangia le tue carote. Dreamy! Dreamy, devi ascoltarmi! Mi serve aiuto! Hai voglia di giocare oggi, eh? Cosa? Ho detto che... Non ti arrabbiare, più tardi verrò a giocare con te. Dreamy, sono io, Stella! Sta calmo, sta calmo. Oh, bello! Oh, un momento! No, no! C'è una cosa più importante. Ti mostrerò che sono una BFF. Guarda! Ehi, ma quando l'hai imparato? Rim, dai, basta giocare. Devo andare alle prove. È davvero uno spasso da guardare! Vieni, ora ti insegno un trucco che mi ha insegnato Phoebe. Rilassa prima di un'esibizione. Ispira ed espira così. Ho un'idea, eh? Quando sono nervosa, mi calmo mangiando qualcosa di dolce. Mi hai sporcato la faccia! Ma cosa fai? Non leccarmi! Io mi rilasso così! Yeah! No! No! Perché mi trisce come i cavalli? Oh, non posso guardare! Sì, è imbarazzante! Dreamy, Stella sta cavalcando in sala prove! Oh no! Verrò espulsa! E rimarrò così per sempre! Aiutiamo la nostra amica! E io, invece, un momento! Siete preoccupate per me? Che carine! Ricorda, devi mettere prima una mano qui e poi l'altra qui! Bene! Se non fai versi strani durante l'esibizione andrà tutto a meraviglia! Non penso proprio! Temo che due note non siano affatto sufficienti! Forse posso creare qualcosa con il mio mixer, ma se dovessi sbagliare allora sarà espulsa! No, meglio di no! Espulsa? Sì, Stella, è una cosa seria! Hai tantissimo talento! Ma se continui a comportarti così non ti faranno rimanere nello show! Non so cosa ti sia preso! Sei sempre stata così brava! Ma dove va? Seguiamola! Forza! Rim triste! Academy importante! Scusami! Rim! Stella! Penso che abbia perso il senno! Che cosa sta cercando di dirci? Rim! Stella! Tu sei Rim e tu Stella! Cosa? Vi siete scambiati i corpi! Non è possibile! Ah! Stella! Solo Stella suona così bene! Rim! Ma com'è successo? Puoi annullarlo! Ok, scopriremo noi come! Siamo BFF e saremo sempre unite! Vi voglio bene! Troppo affetto e disgustoso! Non lo sopporto! Sono così amiche! Non fa più ridere! Che noia! Stella! Stai bene! Rim! Cos'è successo? Oh! Sono di nuovo io! Grazie BFF! Rim! E tu sei di nuovo tu! Ero in bagno! Cosa mi sono persa? Non so! Ero andata a prendere da bere! Vuoi? Pai Rim ha cominciato a truttare per la stanza! E mi ha leccato la faccia! Bleh! E avete notato quella luce? Sì, è vero! Era strana! Mi ha ricordato Shadow! Stella? Sei pronta a esibirti? Sì, arrivo tra un attimo! Andrai alla grande! Grazie ragazzi! Sì, arrivo tra un attimo! Il talento nascosto del principe Attenzione, annuncio importante! Le prove per il prossimo spettacolo si sboccheranno in coppia In coppia? Devo trovare qualcuno! Ciao! Stiamo insieme! Buon lavoro! Meglio che mi sbrighi! Sono già tutti in coppia! Wow, che seccatura! Ciao, Sky! Ti andrebbe di fare coppia con me? Ok! Evviva! Shannon! Shadow! Cosa? Oh no, voi non svelerete il mio piano! FFL! FFL! Tornate qui! Guarda che brave! Sono strepitose! Hanno unito i loro due talenti! Allora, vediamo un po'... In cosa sei bravo? Eh, bella domanda! Io non ne sono sicuro! Credo di cavarmela bene con la giocoleria! Però, a dirla tutta, non è che ci vado matto! Vuol dire che non è il tuo vero talento! Ti aiuto a scoprirlo! Sei pronto? Jenna, Crystal e io pensiamo che potresti essere un bravo cuoco! Cucinare! Proprio così! Per prima cosa, devi sapere che bisogna maneggiare gli ingredienti con grande cura! È meglio provare qualcos'altro! Oh, ma perché hai tanta fretta? Non potevamo finire il pisolino! A Sky serve il tuo aiuto! Devi insegnargli a sfilare su una passerella! Oh, beh! Per quello ho sempre tempo! Beh, non mi sembra molto interessato! Via, Pell! Via, Pell! Adesso vi acchiappo! Shannon! Proviamo la pittura! Io passerei a qualcos'altro! One, two, three, four! One, two, three, four! Senti il ritmo della musica! One, two, three, four! Andiamo! Di sicuro ce l'hai qualche talento! Che ne diresti della chitarra? Cantare? Immersioni? Tiro con l'arco? Salto con l'asta? Paracadutismo? O karate? Parkour? Eh, scrivere poesie? Atletica? Dormire con i calzini? Giardinaggio? Nutrire i pesci? Scherma? Zuno? Ragazze! Basta! Vi ringrazio! Ma devo scoprire da solo qual è il mio talento! Acchiapperò quelle piccole pesti! Bene, benissimo! No, no! Male, malissimo! Peggio di così, non poteva andare! È chiaro che non ho nessuna passione! Farei meglio a tornare a castello! Dannate, Jelly! Di certo non sapranno resistere a questa! Oh, wow! Questa torta sembra deliziosa! Sì! Me ne sono liberata! Addio! E a mai più rivederci! Vorrei poter volare via da qui! Wow! Non posso crederci! Un cavallo alato! Ti sei perso! Che ci fai qui? Tranquillo! Ora mi è tutto chiaro! Ti sei perso! Beh, siamo in due allora! Perché neanch'io so bene che cosa ci faccio qui! Sono davvero ingroppo a un cavallo alato! Wow! Wow! Evviva! È fantastico! È fantastico! Oh! Ma che vento! È meglio che non ti vedano! Adesso ti porto al castello e poi capiremo come fare! Molto bene! Ora che siete tutti in coppia possiamo finalmente iniziare le prove! Ehm... Jenna, cara! Dov'è il tuo partner? Io... Beh... Ecco... Finalmente me ne sono liberata! Oh, sì, sì, sì! La foto! Ehi! Tornate qui! Ehi! Ridatemela subito! L'ho presa! Oh, Shannon! Perfetto! Starei tu in coppia con Jenna! Come ha detto? Ma dov'è Sky? Dice che è riuscita a scoprire il suo talento! Yuhu! Guardate cosa so fare! E lo adoro! Chi è riuscita a scoprire il suo talento! Il misterioso caso di Halloween È sangue quello vicino allo specchio di Lady Qui sta succedendo qualcosa Non toccate nulla, fino all'arrivo della polizia sarò io a condurre le indagini Oh no, oggi è Halloween e stando a quanto ho letto online alcuni studenti si trasformano in vampiri Forza, forza, via di qua, lasciate spazio alle professioniste Lady non risponde Qualcosa non va Tu non centri niente, vero Cristal? Ehi, non farei mai uno scherzo del genere Nemmeno ad Halloween? Beh, ad Halloween sì, ma io non centro con questo Dobbiamo scoprire cosa è successo a Lady Come Miss Lupas in il misterioso caso della gallina scomparsa Anche io vi interrogerò una alla volta Daisy, sei la prima Mi prude il collo, sono sicura che sia il morso di un vampiro Qualcuno ha visto Lady oggi? Dobbiamo trovarla Io l'ho vista, ci siamo incontrate stamattina all'ingresso dell'academy È arrivata con il suo scooter E all'ultima ora ho lezione di passarella E Lodi mi ha cucito un bel labito rosso Mi sono portata un rossetto e uno smalto da abbinare Forse si è addormentata da qualche parte prima della lezione Sapete com'è fatta? Quando hai visto una persona scomparsa per l'ultima volta? Beh, stavo pettinando i miei capelli setosi Quando Lady è arrivata all'improvviso in camerino Oggi sarà un successo in passarella Sfilerò con il vestito che Lodi ha fatto per me Dov'è il mio vestito? Ti aiuto a cercarlo Non serve, so chi è stato Tu, tu lo hai preso, confessa Ma se io volevo aiutarla Oh, giusto Continuerò ad indagare Lady? Oh no, è soltanto Narvi Crystal, ora interrogo te Avevo preso il suo vestito dall'atelier Ridammelo subito, ho detto Era solo uno scherzo, non arrabbiarti Eccolo qui Continua Se n'è andata in lacrime perché non aveva un vestito per la passerella Ci hai mentito Hai detto di non averla vista Sì, perché avevo paura che pensaste che fosse tutta colpa mia Ma non so dove sia Lady Perché nessuno mi ascolta? Ve l'ho detto, è la maledizione dei vampiri Spariremo tutte una dopo l'altra Vampiri? Interessante Jenna, vieni a testimoniare Dobbiamo trovare Lady Siamo le sue BFF Can't help to be frightened Can't help to feel scared It is Halloween And there's a mystery Gotta look for clues Gotta look for anything We'll always be there for each other We always give our best to discover All of the things that are hiding from us We will not give up We will find you so don't be scared In our hearts we know that you'll be okay We will find you so don't be scared Together we care Cause we're unstoppable 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 Sono passate ore da quando qualcuno l'ha vista La terra sembra averla inghiottita Tocca a te, Shaq Hai visto Lady? Sì, questa mattina piangeva con Elodie Ok, ok, non ho detto niente Perché io e Sky abbiamo avuto un imprevisto E comunque pensavo che si sarebbe fatta viva Ecco Credo di avere talento per la scherma In guardia! Vi sconfiggerò! Mi dispiace No, Lady si arrabbierà molto Ho solo mezz'ora per sistemarlo Ma dobbiamo andare La limousine ci aspetta Dopo potrai sistemarlo, ok? Wow, il vestito di Lady Le farò un scherzetto Aspetta, posso sistemare il vestito a casa? Crystal! Crystal! Oh no, Crystal lo ha messo nell'armadietto Che cosa facciamo? Devo aggiustarlo Fatto! Ridammelo subito, ho detto! Era solo uno scherzo Non arrabbiarti Eccolo qui E poi, quando ho visto che piangeva Le ho detto che avevo io il suo vestito Per aggiustarlo Ragazzi, ci servono più indizi Per trovare Lady C'è di sicuro qualcosa qui intorno Che serata Siete certe che non ci saranno vampiri? Oh, piantala con questi vampiri Sembri Jenna Ehi, ti ho sentita! C-cos'è stato? Avete sentito? Aaaaaah! Che cos'è? Un vampiro? Uh, eccomi finalmente Lady! Non sapevamo dove fossi Jenna credeva che ti fossi trasformata in un vampiro Beh... Miss Collect pensa che tu sia stata rapita Un vampiro? Rapita? Oh, ecco il mio specchietto Il fatto è che mi stavo mettendo lo smalto a color fragola Quando Eloti mi ha portato il vestito Ma ho rovesciato sopra lo smalto e l'ho sporcato Che disastro! Quindi sono andata a lavare il vestito per stasera Ora sì che torna tutto Uh, pensavo che non ce l'avrei fatta Devo esibirmi fra mezz'ora Beh, giusto il tempo per uno spavento a Miss Collect Sì, è davvero un'ottima idea Oh sì, assolutamente Mistero risolto! I vampiri hanno rapito Lady Perché volevano un vestito realizzato dalla principessa Lady, no! Non farlo! Sì, sono un vampiro! Ormai è una di loro! Nooo! Non me! Nooo! Aaaaaah! Ahahahah! T.S.S. Puoi farcela, Sidney! Nel galà di questa sera, la prima categoria a esibirci è... Il balletto! Congratulazioni! Che meraviglia! Wow, sarai la prima! Noi saremo le prime! Oh, giusto! Congratulazioni anche a te, Shannon! Non vedo l'ora, proverò una piruetta molto difficile! Ragazze, dovete stare tranquille! Capisco l'emozione, ma ricordate che sarete in due sul palco e che dovete provare insieme! Proviamo insieme dopo pranzo? Sono impegnata! Oh, più tardi? Più tardi ancora? Sono libera ora! Puoi? Beh, sì, certo! Guarda, che ne pensi? Però, è tutto quello che sai fare! Wow, ma sei bravissima! Lo so, prova a fare di meglio, ma non ci riuscirai! Se vuoi, dopo il tuo passo, io posso fare questo! Beh, piuttosto banale! E questo? Oh, prevedibile! Oh, alla tua coerografia serve un po' di brio! Tipo guarda! Visto? Molto meglio! Così! Stai attenta! Atenta, ti prego! Non sei molto sicura! Cioè, se ti fai male, non potrai esibirti per prima! Non è nulla di meno noioso? Oh, beh, tutte sbagliamo, no? Io no! Mi esercito da sola! Magari la tua goffaggine è contagiosa! Oh, non promette bene! Mi ricorda a qualcuno e a te... Oh, ma dove è andata? Vediamo quanto balli bene con queste! Va tutto bene? Che succede? Niente! Sono preoccupata per Sidney! Credo che stasera farà un disastro! Sidney? Ma balla benissimo! Sì, ma inciampa spesso! Le sue scarpe sono molto vecchie! Ho questo paio in più, ma sicuramente non le vorrà! Non si fida di me, perché siamo tutte e due bravissime! Non lo so! Forse se gliele porti tu, le accetterà! Ma certo! Siamo BFF! Davvero! Le faresti un grande favore! E ora, un bel salto! Non ce la farai! Ehi, Sidney! Ho saputo che sei un po' nervosa, così ti ho portato... Scarpe nuove! Le mie sono vecchie! È proprio quello che mi serviva! Grazie mille! Farò un figurone al gala di stasera! Mua! Aia! Mi sono quasi distorta la caviglia! Ok! La terza è la volta buona! Wow! Ma che succede? Anche i nostri ciondoli brillano! No! Viene da laggiù! Sidney! Ho preso una storta alla caviglia! Aia! Mi fa davvero male! Speriamo che possa esibirsi! Non potrò esibirmi! No! Stai tranquilla! So cosa faccio! Ho preso tante storte alla caviglia in passerella! Guarirà! È come se le scarpe mi avessero spinta! Queste non sono le tue scarpe! Non sono nel tuo stile! Le le ho date io! Ma è stata sciata! Perché farle indossare delle scarpe nuove la sera dell'esibizione? Passima idea, Stella! Cosa? Ma... Già, vergognati! Dai, Sidney, toglietele! Ah, io volevo solo aiutare! Ah! Ah, sai com'è fatta Stella! Tra due ore se lo sarà dimenticata! Nessuno mi capisce! Che succede? Ho sentito urlare! Sidney è caduta e loro pensano sia colpa mia perché le ho dato le scarpe nuove! Ma pensavo che voi foste amiche! O sono solo amiche di Sidney? Sì, a quanto pare noi non lo siamo più! Oh, mi dispiace tanto! È terribile! Almeno tu mi capisci! Non lo so, Daisy! Forse dovrei lasciar perdere! We all have our little special spark up deep inside It doesn't matter what you do You're always going to shine Just try Again And again Yeah, all you really gotta do Is believe in yourself In life there will be obstacles But you'll overcome them And be The best You can be Stand up And live Your big dream Become Who you wanna be La serata sta per cominciare Dov'è Sidney? Non credo che verrà Sarò io la stella stasera e brillerò sul palco Scusate, scusate, eccomi! Ottimo Pronte? Tre Due Due Uno Buonasera, fan di Big Dreams Oggi assisterete alla performance di balletto di Sidney e Shannon Bravissima, sei la migliore! E ora un bel salto Forza Sidney! And up And live Your big dream Become Who you Wanna be Who you 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 Cosa? Ti sei tolta il ciondolo? Sì, mi sembra evidente che non siamo più best friends forever Ma no, stella Perché dici così? Perché tu pensi che abbia dato quelle scarpe nuove a Sidney per sabotarla? Non è vero, non penserei mai questo di te È solo che... Sai come divento quando sono nervosa? Penso che il mondo stia per finire Sono un po' melodrammatica Non preoccuparti, Jenna So come sei ed è per questo che ti voglio bene Vado a rimettermi il ciondolo E promettimi che non lo toglierai mai più Promessa da via a te Ehi, ciao Shannon Sei stata grande Sidney è stata grande Alla fine tutto è andato per il meglio Sì, per fortuna E tu indossi di nuovo il ciondolo Sì, era solo uno stupido litigio Siamo ancora BFF Oh, e grazie Ma Sidney mi ha chiesto di restituirtele Indossare scarpe nuove la sera dell'esibizione non è una buona idea Infatti, chi lo farebbe mai? Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle DSS Durante lo show ogni concorrente mostrerà le proprie abilità Voglio rovinare la loro gara Vediamo se sono così amiche come dicono Salviamo Rim Su, Rim, da questa parte Sono felice che tu sia qui, ma non devi farti vedere Attenti, telecamera Non muoverti Stai ferma, immobile Grazie per il vostro aiuto, ragazze Non volevo lasciare Rim a casa da solo Non ringraziarci, anche noi teniamo a Rim Qui starai bene, non allontanarti e non farti notare Chissà come reagirebbe Miss Collette se dovesse vederti Ha un sonno tremendo Non davanti alle telecamere Vi hanno scoperte! Controllate la chat di Big Dreams Ma come è possibile? Chi l'ha postato? Hanno scoperto Rim! Qualcuno vuole metterci nei guai Sì, ma chi potrebbe essere? Un post a dir poco incredibile Chi mai vorrà farvi scoprire? È un animaletto così carino Ora che facciamo? Devo andare da lui prima che lo trovino Ancora quella bestia? Ora chiamo il direttore per farlo cacciare dall'academy Devo trovare subito Rim Noi dobbiamo andare, ma penseremo a qualcosa Ti aiuto io, Dreamy, andiamo Anch'io Ehi, Laa Guardate, quello è il principe Finalmente mio fratello è arrivato Ehi, sei in ritardo? Te ne rendi conto? Non preoccuparti, sorellina Sky, vieni a lezione con noi Ok Dove sarà finito? Rim! Oh, c'è un vento tremendo Ehi, una telecamera Andiamo Rim! 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 Per fortuna ti ho trovato Dobbiamo fare in modo che Rim non venga cacciato Che ne dite di travestirlo da cane? Ho di nasconderlo in un ripostiglio Tranquillo, nessuno vuole rinchiuderti Rappiamo un miscolletto e la teniamo in ostaggia finché non accetta Aspetta, non ti sembra di esagerare? Spero che le altre abbiano trovato una soluzione perché qui... Oggi parleremo di come associare l'espressività alla gestualità Coraggio, tutti insieme Tristi Tormentati Felici, più felici È il giorno più bello della vostra vita Ho pensato tanto a come fermare questa ingiustizia ma non ho trovato una soluzione Neanch'io, eppure il sangue alla testa mi arriva e come Tranquillo, Narvi La prossima volta andrà meglio Sky, va tutto bene? Mi sei sembrato un po' distratto Ah, che mi annoio Che cosa? Alla tua età tutto dovrebbe essere entusiasmante Se ti andrà di parlare ti aiuterò in ogni modo possibile Grazie, lo terrò presente Nicoletta, davvero è qui per aiutarci in ogni modo possibile Sì, perché? Deve aiutarci con Rim, quello che sta succedendo è ingiusto Non posso fare molto se per Miss Colletta non può restare Oh, la prego Rim è un animale molto affettuoso e ha bisogno di stare con noi Forse potrei sollevare la questione alla prossima riunione con il direttore del programma Oh, sta cominciando proprio adesso Sentiamo che dicono Proprio così, direttore, c'è un animale nella struttura Chiamerò la disinfestazione Di sicuro alle pulci Ma i cavalli non hanno le pulci E poi questo qui è davvero adorabile Quel mostro spaventerà gli spettatori Secondo me ne attirerà di più invece Chi non ama gli animali? Basta discutere Vediamo cosa ne pensa il pubblico e agiremo di conseguenza Avete fino a domani a mezzogiorno per scoprirlo D'accordo, direttore Stanno arrivando Ti garantisco che domani se ne andrà Le visualizzazioni dovranno salire alle stelle, come facciamo? Mi è venuta un'idea Prendi il cellulare Miss Collette, ho visto quell'animale disgustoso Che lasciava impronte dappertutto Lo so, Shannon Ma presto quell'animale dovrà lasciare l'Academy Pronti? Ciac, azione! Ciao, io sono Elodie Vedete quest'animale meraviglioso? Volete che rimanga qui all'Academy? Beh, lasciando un commento con l'aspar Salviamori Ci aiuterete a farlo restare E parteciperete all'estrazione per vincere questo vestito È il mio migliore amico fin da quando ero piccola Non lasciate che me lo portino via Vai Sydney, tocca a te Ops, scusate, sono un prempiastro Quello sembrava più karate che un balletto Oh no, il cartello è volato via Cosa facciamo adesso? Ti prego, Sky, puoi giocolare? Ci servono altri video È impossibile con questo vento Un'altra volta Dai, è per una buona causa Sono le dodici Il tempo è finito Ora chiamo il rifugio per animare Non può portarlo via È ingiusto Ho bisogno di Rim al mio fianco Attente, Nicoletta Miscoletta Attenzione Bravissimo, Rim Sei un eroe L'hai salvata Sydney, dimmi che hai ripreso Tutti vogliono che Rim resti Bene, bene Ho caricato il video E il pubblico desidera che Rim rimanga Beh, se lo vuole il pubblico Allora è deciso Ovviamente dovete trovare un posto in cui sistemarlo Non può certo dormire dentro l'academy Evviva, puoi rimanere È fatta Rim resterà qui con noi Ecco fatto Rim adesso ha un posto dove stare Grazie per l'aiuto, BFF Siete le migliori Urra per Rim Oh, che succede? Un ciondoli Ora fate ufficialmente parte delle BFF Non me ne va una per il verso giusto E loro sono amiche più di prima Hey! Hey! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends Big Dreams, il talent show Guarda, qui è quando Crystal aveva la febbre e il suo iglusi stava sciogliendo Comincia! Il talent show con le nostre BFF Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF Durante lo show ogni concorrente mostrerà le proprie abilità Sydney non è cambiata Ogni giorno assisteremo alle loro esibizioni Ma solo una vincerà Le potrete seguire grazie alle telecamere che le riprendono 24 ore su 24 A tra poco! Big Dreams, il talent show delle BFF Che emozione! E ora che succede? Oh wow! Adoro il tuo look! Anche tu stai alla grande! Buon primo giorno al Big Dreams Show! Selfie! Oh no, che faccia! La cancello subito! Ehi, ridammi il telefono! Che bello essere di nuovo insieme! Siete il mio ingrediente preferito! Vi voglio bene! Andiamo, non vedo l'ora! Oh, chissà come sarà! Wow, incredibile! È ancora meglio di quello che immaginavo! Lo adoro! Oh sì, i miei dolci verranno benissimo! È incredibile essere qui tutte insieme! Nella può rovinare il momento! Ehi là! Prova, prova! Ho bevuto troppe tisane oppure quella era la voce di... Scolette, la direttrice di Big Dreams! No! Tutte le concorrenti sono attese nella sala prove! Oh, non ci libereremo mai di lei! Oh, eccole le migliori amiche! E io qui da sola, come sempre! Voglio rovinare la loro gara! Vediamo se sono così amiche come dicono! Com'era? Io credo nella magia! Forse la magia dell'amicizia? Oh, è impossibile! Wow, abbiamo un palco in classi! Io provo i miei passi migliori davanti allo spesso! Benvenuti alla Big Dreams Academy! Sono la direttrice Miss Collect e lei è Nicoletta, la vostra insegnante! È un piacere conoscervi ed essere qui! Faremo brillare i vostri talenti! Come vedete, ci sono telecamere dappertutto! Vi riprenderanno sempre, così che il pubblico da casa potrà vedervi! Registreranno ogni prova, ogni vostro movimento! Sarà bellissimo! Sì, è vero! E lei non è un volto nuovo! Non ti ricordi? È la principessa Elodie! Eravamo piccoli! Wow! Ragazze, silenzio! Non sento una parola di quello che dicono! E saranno i momenti in cui mostrerete al pubblico a casa il vostro talento! Buona fortuna! Cosa ha detto? Di che momenti parlava? Se foste state zitte un secondo! Dai, andiamo! Ciao, Elodie! Ti ricordi di noi? Da piccole giocavamo con te e tuo fratello Sky al vostro castello! Certo che sì! Ci divertivamo! Vorrei che il castello fosse più vicino! Non riuscirò a mostrare la mia abilità di stilista perché ho lasciato lì le mie stoffe speciali! Al castello! Posso accompagnarti, per favore? Cioè, se ti va! Insomma, potrei darti un passaggio fino a lì con il mio scooter! Lo faresti davvero? Certo! Ma dove vanno? C'è la presentazione dei talenti! Stai tranquilla! Sono le ultime! Torneranno in tempo! Portale, portale! Apriti un pochino! Se continuo così mi farà la nausea! Cuore strappato? No, 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 no! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Oh, no! Non dirmi che devo anche fare il balletto! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Tornamente! Ora vedranno come... Ehi, sta giù! No, questa è già lì! Ben tornati! Siamo pronti per presentarvi i talenti! Ecco a voi, Crystal! Ciao, sono Crystal e adoro la danza moderna! E ora vi presento Connie! Sono Connie e vado pazza per la cucina! Buoni, vero? Vi svelo l'ingrediente segreto! Tanto amore! Seguitemi sul mio canale Cucina con Connie! Signore e signori, Jenna! Oh, no! Non ce la faccio più! Non è vero perché sono un'attrice e adoro il dramma! Sono Jenna! Lady e Delody non sono tornate e fra dieci minuti è il turno di Lady! Sono come una pentola a pressione! Pronta ad esplodere! A chi tocca adesso? È il turno di Sydney! Ehi, Sydney! Tocca il tuo balletto! Ora sei agitata? Mi piace il balletto! Beh, un pochino sì, ma non importa! Adoro danzare! Ciao! Buongiorno! E quella chi è? Ma che strano! Era da tanto che i nostri ciondoli non si illuminavano! Forse qualcosa non va! E ora la nostra stella del balletto, Sydney! E io, Shed! Shannon! Oh, sì, Shannon! Shannon, non ti vedo sulla lista! Davvero poco professionale commettere questi errori? Siamo in diretta! Oh, sì, Sydney e Shannon! Tocca a voi! E quella chi è? E ora, una futura modella! Lady! Dov'è Lady? 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 Tieni questo! Corri! Buona fortuna! Wow! È la mia! Ce l'ha fatta! E ora la nostra principessa stilista, Elodie! Psst! Puoi farcela! Grazie per averci seguiti! Alla settimana prossima con Big Dreams, il talent show delle BFF! Lo adoro! Che stress! Non pensavo che avremmo superato il primo giorno! Ha, 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 ha Grazie a tutti